disgraziatamente o meno non lo so ma non appartengo a quel tipo di analisti che ritengono che le borse abbiano da cavalcare verso massimi inauditi e che facciano bene a snombare il discorso del virus corona io penso che la situazione non è facile e che soprattutto nessuno di noi abbia ancora conoscenze reali su ciò che sta accadendo pertanto dobbiamo utilizzare gli strumenti dell'analisi grafica dei prezzi per capire che cosa succede questo è un grafico del dax 30 minuti qui ho indicato con un software di nuova uscita dove sono le posizioni dei big che lavorano su un ciclo intermedio fra il settimanale e il mensile qui c'è un'entrata long avvenuta ieri a 13.392 che già in trailing stop poiché ha toccato un primo target a 13.514 toccato proprio no perché è stato limato il massimo di stanotte 515 ma siamo ai limiti c'è già un trailing stop a 3.453,4 dove passa anche un altro livello di software delle posizioni a un mese dei big dove quindi c'è una sorta di coincidenza proprio pazzesca qui c'è una resistenza a 13.526 qua viene un'altra a 13.542 e in caso di ripristino di positività c'è una resistenza molto forte a 13.576 misurando la distanza fra l'entrata in posizione trailing stop ne ricavo un target eventuale a ribasso che è una bellissima zona 13.335 in caso di successiva discesa non me l'aspetto sinceramente questo livello 13.270 280 è davvero spaziale su che cosa stanno scommettendo mercati che il virus si possa in un certo modo inquadrare meglio e stanno scommettendo nel senso buono il termine sul fatto che vincerà bonaccini in italia non si spiegherebbe altrimenti il forte rally di recupero del btp avvenuto già non soltanto ieri ma dalla giornata di mercoledì dopo che il btp laterale aveva dato segni di rompere a ribasso ma qui sicuramente sono entrati degli acquisti che mi sembrano un po troppo fatti bene perché non abbiano una relazione con l'esito o quantomeno le aspettative dell'esito delle elezioni emiliano romagnole di domenica uno dei temi che sto infatti osservando è lo spread fra bund e btp che si era andato ad evolvere in senso negativo bund al numeratore btp al denominatore praticamente nelle ultime dieci sedute poi però il bund ha preso una forte legnata il btp la retta molto meglio e qui sono nate delle piccole posizioni short ancora molto da vedere da parte dei big sulla circa metà due terzi della forte candela ribassista da parte del bund di mercoledì scorso andremo poi a vederla nel proseguo del video qui è già stato raggiunto un primo livello interessante c'è un trailing stop delle posizioni qui ci sono i target più significativi ora è difficile ragionare in termini di spread con un grafico così combinato ma in ogni caso suggerisco di controllare il bund perché ieri ha fatto un po il pazzo furioso nel senso che è salito molto ha raggiunto già dei target qui ci sono già delle posizioni aperte a 172,35 lo candidiamo come supporto importante per oggi soprattutto la superamento del livello di 172 30 che per il bund è un livello sensibile importante ora attenzione anche alla figura qui c'è una sorta di doppio massimo un target è già stato raggiunto un altro a 173 14 c'è c'è anche una attenuazione di spinta realzista da parte della mano istituzionale che si evidenzia in modo abbastanza chiaro sul sentiment e qui vediamo una salita dei prezzi e qui vediamo un'attenuazione dell'indicatore qua c'è una forte resistenza per cui c'è stata una pressione acquisto elevato sono anche ricoperture però i big non l'hanno assecondata quindi questi sono acquisti dei piccoli che erano short di bund e che di conseguenza si sono un po dovuti chiudere btp come vedete invece compratissimo molto più comprato rispetto alle intenzioni del sentiment che c'è sicuramente rialzista con il superamento di quota 143 30 la rottura di questa formazione triangolare anche abbastanza netta ed evidente queste sono candele di spinte che normalmente non tradiscono a 143 61 sono entrati gli istituzionali ma attenzione oggi potremmo vedere dei movimenti di riassestamento perché comunque anche i sondaggi la faranno da padrone a mio parere l'uscita di salvini con la scampanellata allo spacciatore finto ovvero che forse tunisina non è stata una gran mossa forse bonaccini potrebbe averne un vantaggio e in questo senso dovremmo un po andare a capire cosa succede a piazza fari perché a mio parere il grafico non è tutto luci ma contiene anche delle ombre da un lato qui osservo questo canale che ho tracciato l'altro giorno che possiamo anche andare a smontare rifarne un altro e quindi possiamo tracciare soprattutto con riferimento al movimento visto ieri questo tipo di struttura grafica ora va da sé che si nota chiaramente che noi stiamo andando a configurare dei pullback ma di ripresa delle quotazioni dopo le discese dai massimi però avvengono sempre più vicine alla parte bassa del canale questo non è un segnale che mi faccia impazzire proprio di gioia dal punto di vista rialzista perché cosa vedo una divergenza è chiaro che qui c'è la linea dello zero e quindi è tanto chiaro che 23.600 per oggi 5.50 qui sono entrati big si candida insieme a questa zona di volume molto strana molto affollata a 23.700 si candida come essere un po il supporto decisivo questo supporto decisivo si regge anche su una constatazione che via una compressione di volatilità quindi qui se si esce perché oggi comunque dax quota lo 0,70 80 per cento in più quindi 23.700 è stata la chiusura di ieri 2 per 8 16 6 per 8 48 200 punti si potrebbe aprire intorno a 23.900 23.850 in caso di apertura su questo livello mettiamo che si apra qua il 24.000 intercettato da un 23.925 55 e 24.000 può essere un target da raggiungere all'interno di una figura che tutte le volte che cerca di provare a fare il 24.000 ne viene respinta chissà che le elezioni non possono portare avanti l'america è positiva però una positività intorno alla parità tolto il nasda che strappa sempre qualcosa un po di più rispetto ai livelli toccatieri a mio parere oggi è una giornata da estrema estrema prudenza un ultimo sguardo all'oro zitto zitto non si sa che posizione voglia prendere c'è uno scarico di forza per attenzione che loro potrebbe anche fare qualche cosa di questo tipo e quindi andare a riprendersi delle istanze rialziste molto modeste peraltro che possono andare a configurare un primo livello qui ci sono comunque degli ingressi a 5.50 un primo livello di ritorno a 5.65 lì poi vediamo se lo supera 5.72 e 5.79 5.80 secondo me possono essere dei target raggiungibili c'è poca volatilità uno strappo ci sta tutto bisogna che il dollaro un po si indebolisca in questo caso però al tempo stesso non c'è una grande direzionalità quindi attenzione bellissimo scarico dell'indicatore oggi l'oro ci deve dire insieme a molti altri indici che cosa vuole fare da grande buona giornata a tutti